Jenny fa la passata, Antonio ti massaggia Antonio ti massaggia col male, è proprio passionale Ciao ragazzi, questo è il nulla L'abilità di prendere un B&B in mezzo a nulla di Bologna Però abbiamo risparmiato Ciao ragazzi, siamo appena arrivati a Bologna Ma ti vedi Nero, perfetto Ciao ragazzi, siamo appena arrivati a Bologna 5 ore di viaggio e mezza Con me a fianco del mio personal trainer Che diventa praticamente un bambino di 2 anni Quando ce l'è a fianco che guidi perché c'ha il mal d'auto Quindi ogni frenata era un dolore Però siamo arrivati qua in questa maison Inquadra un po' il nulla del... Ah ovviamente, ovviamente Mi sono portato il gym bro a Bologna Perché non potevo gareggiare senza i ragazzi Siamo una dozzina E niente, abbiamo preso un B&B per risparmiare Tra Bologna e Piedicento Dove si terrà l'evento di bodybuilding Essendo che se l'avessimo preso a Bologna Staremmo stati distanti di mezz'ora di mattina E' questo, praticamente abbiamo prenotato queste camere E' in una struttura E sono praticamente tutte prenotate da noi Tranne una Quindi i poveri ospiti che hanno quella stanza In mezzo dei casinisti Si dice casinisti? Venerdì 300 E adesso 300 grammi di carbo Oggi più cortisolo Cappuccio tassativo I capelli di merda Alza la voce che non c'è il microfono No, non c'è il capetto io Ti prestavo il mio Ragazzi, 5 ore e mezza di viaggio insieme a lui Mentre facevo le schede mi ha fatto vomitare Mi ha fatto quasi vomitare 2-3 volte In sabita Comunque Accelera, freno, accelera, freno In curva accelera Fa cose assurde A modo GP Accelerare e frenare E poi piano Allora ragazzi, comunque siamo qua a mezz'ora Dobbiamo andarci a registrare al palazzetto Dai ragazzi, va bene così questa clip? No, non va bene, lo dobbiamo spiegare Abbiamo ricaricato giovedì 250 grammi di carbo Venerdì 300 E oggi manteniamo lo stesso 300 grammi Perché abbiamo visto che la condizione comunque c'è Quindi comunque siamo pieno Ma riesco ad asciutarmi Non ancora vi faccio vedere un check Ve lo faccio vedere dopo Che lo faremo insieme ai miei due accompagnatori Quindi che altro? Mi manca un pasto Quindi c'ho il riso e il pollo Da mangiare Ve lo faccio vedere dopo Che andiamo a mangiare in mezzo a Bologna I ragazzi a me mangeranno dove vogliono Io li accompagno e mangio il mio E poi domani avrò la gara dopo pranzo Quindi alle 13.40 Ma mi faranno sapere l'olario preciso di uscita Questa sera dopo essermi registrato Quindi che dobbiamo fare adesso? Niente, ci andiamo sopra Ci andiamo a mettere la felpa Perché è freddissimo qua È freddissimo E basta Qua abbiamo andato al palazzetto Dobbiamo andare a casa E basta ragazzi Ci vediamo dopo per la cena Vi faccio vedere Se fate un ordine su Prozis Codice sconto La Marchetti No canale mi no Comunque cercherò di non accumulare Troppo cortisolo In quadri di gym bro Mamma mia Tutti li ho portati Tutti li ho portati E manca uno però purtroppo Purtroppo si è dato Si è avvicinato a Dio Diciamo così Si è avvicinato a Dio Per un corso prematimoniale Quindi si è deciso di chiudersi in convento E non consumerà fino al matrimonio E la mano è la mano E ci facciamo a cena Ciao Vale Andro Tu lo posso Tira le gambe Tira le gambe Ok Guarda la stradatura su Purtroppo 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 Ancora il troppo Vedete il vomit Grazie Bravo 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 Alla Purtroppo Un'altra Ciccita impressionante Stava più tagliata Stava stracciato proprio Non ti pigare troppo Quanto sai che sta qua Capite? Perché se no ci può passare Apre and go Eh così Siamo arrivati Al palazzetto Col doc Accompagnatore E l'accompagnatore dell'accompagnatore Lui lavora sempre Buonasera E facciamo la registrazione Eccoci qua Puntiamo a quelle Appena registrato Numero 16 Numero 16 come lo vedi? Sembrate Pure il 9 non era niente che invece è andato bene Asciugamano FCFN Come se non ce ne fossimo portate 3, 4, 5 Ragazzi siamo andati a mangiare fuori Questa è la situazione Vinello Tortelli Tagliate Il notaro E io questo Solo stasera però Da domani basta Da domani abbandono Austria Austria Da domani basta Austria Austria Secondo C'è una successiva di invidio ma c'è la nebbia E lì è la casa è tutto buio Un paesaggio Un paesaggio horror Con la pala Abbiamo i vicini Col pick up Di solito è così che fanno più Abbiamo i vicini col pick up dove nel calcione dietro lo mettono i cadaveri Dopo che Però tutto apposto ragazzi amici di youtube perché abbiamo in comitivo un ragazzo nero e sappiamo che vorrà prima lui Non lo puoi dire è razzissimo Vabbè non è politicamente corretto però si sa che nei film horror succede sempre qualcosa E le persone di coloro quindi scusa Ciciro Ciciro sei fiducio Scusa Ciciro però è così Quindi se ti succede qualcosa sappiamo che la cosa non è buona E saltiamo la gara domani Ehi facciamo l'ordoco stambi da lì E perché stai chino e l'anzi Perché non lo so Non te la senti carica? Se ne manca poco solo un'ora per il pompaggio per il colore E ho capito solo un'ora Che sta carica? Cioè la gara di qualificazione siamo arrivati mezz'oretta prima al palazzetto Io stavo ricaricando mentre camminavo Veramente Già mentre camminavo il palazzetto ce l'hanno mi metteva il mallo da dietro E ma tanna era colpa mia capito? E poi che muovo invece io? Ma che giù fatte i malli? Ma che stavi tornando a Napoli? Ma io stavo andando presso a Francesco che alla fine è andato là Siamo pronti? Siamo pronti? Ci cazziamo Mettela e vada meglio che fu Un fritto Sotto un fritto Un fritto Te la vuoi mettere qua fuori? E va va Cambiamo camera Ti registro io Eccoci qua ragazzi Michele deve careggiare Un fritto 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 molto 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 più tirato portiamo quanto più qualità possibile il prossimo tiraggio secondo me ti spacco però insomma ci piace Jenny fa la passata Antonio ti massaggia Antonio ti massaggia col male è proprio passionale ricarichetta ne andava che ne andava no oh 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 non guarda non guarda non guarda piano 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 we were rock 2 we ragazzi i giudici ci consigliano anche un po' di building però va bene classic Aleandro piace classic a Jenny piace classic quindi è classic un po' più bicicletta che hai detto rosario? ha fatto la dita ha fatto ha fatto da due settimane da quando? due settimane da quando? due settimane da quando? due settimane da quando? o l'uolo anche un po' roso sappiamo il tuo palazzetto sappiamo il tuo palazzetto non ce lo fai in casa buongiorno ma come sei mi ringgudio ma non è un po' più facile ma non è un po' più facile ma non è un po' più facile è stai bello non c'è bisogno però adesso va tranquillo ora va sta anche meglio di stamattina speriamo di fare un bel risultato così dopo se ne facerà il meglio di me buone maniere funziona sempre tutto allora ragazze avvicinatevi al centro avvicinatevi al centro a destra vi da Vieni! 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 Vieni, vieni! Vieni! Vieni, vieni! 3 cibi di dorsali 2 cibi di 2 cibi di 3 cibi di 3 cibi di 4 cibi di 3 cibi di chiedo al numero 16 la sua miglior cosa e chiedo ai suoi avversari di rifarla grazie ragazzi adesso chiedo al numero 48 la sua miglior cosa rilassati chiedo che il sedici si metta al centro 3 cibi di 4 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 cibi di dorsali amazili 3 cibi di 6 cibi di 4 cibi di 21 cibi di 2 cibi di Dorsali Sventiamo per le routine, grazie Pubblico Puoi mantenere? Ci vedete aperto Dorsali Scusate 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 e anche e anche che si 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 giudici si 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 un po non come l'avevo fatto stavo scivolando sul palco però non si è visto tantissimo è andato bene come l'hai visto bene bene sta meglio sta molto meglio ci pacchiamo ragazzi cerchiamo di dare il meglio ora aspettiamo le premiazioni e vi aggiorniamo con le premiazioni tra dieci anni faranno le premiazioni e sapremo se ci avranno le premiazioni sulle quattro e mezzo dobbiamo cercare qualcosa da fare in quest'ora e mezzo però le andrò da così in suo modo penso aspetteremo penso aspetteremo poi per un ora metteremo malo e andiamo a prenderci la medaglia abbiamo questa la medaglia Grazie a tutti. 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 Ciao. Vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah! Leandro! No! BAM! Grazie a tutti. Grazie a tutti. We... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ayer ho fatto un'intervista per quanto riguarda un giornale locale e magari se mi seguite su Instagram, se non lo fate, seguitemi e vi posterò il link dell'articolo in manovare che potete leggerlo. Un'altra cosa che ci tenevo a raccontarvi, che nel video non si vede, è che dopo la premiazione di categoria, quindi dopo aver vinto la medaglia, sono stato selezionato nel circuito Salute Atleti. Cosa vuol dire? È praticamente un'iniziativa che ti sottopone a test antidoping casuale durante l'anno, quindi attività insaputa, e l'atleta può scegliere di sottoporsi a questo programma volontariamente, quindi facendone appunto esplicita richiesta, oppure come nel mio caso è la giuria che ti sceglie. E quindi niente, verrò sottoposto a questi test antidoping, quindi per la gioia degli hater che dicono che non sono natural, verrò appunto sottoposto a test a sorpresa, che prevede un'analisi del sangue e delle urine. Già durante la gara me ne è stato fatto uno, subito dopo la premiazione, e appunto quando mi chiameranno dovrò andare a fare questi controlli. Cosa andiamo a fare adesso quindi? Innanzitutto ho fatto una settimana in cui mi sono rilassato dalla dieta, non ho voluto stare lì a pesare gli alimenti e tutto, mi sono semplicemente rilassato, sono uscito con gli amici, ho mangiato, avevo bisogno di un attimo di stacco mentale. Quindi ora cosa andiamo a fare? Andremo a fare dei mesi di massa graduale, dove saremo mano a mano, l'anno prossimo punteremo a una condizione top, non voglio trascurare niente, voglio arrivare nel migliore dei modi, stavolta il tempo ce l'abbiamo, e non ci sono scuse. Non che prima ce ne fossero, ma adesso ho maggior ragione. In off-season volevo portarvi nuovi contenuti, vi voglio far vedere cosa mangia un atleta in off-season, visto che seguiremo il regime di atleti, la spesa e tutto, ora non si scherza più, non si è più amatori, si fanno le cose sul serio. Ragazzi, non volevo aggiungere altro, non voglio fare il video troppo lungo, che già lo è abbastanza, e niente, ci vediamo nel prossimo video, se questo video vi è piaciuto, se avete seguito insieme a me questo percorso, e chi mi segue dall'inizio sa quanto è stata tosta, lasciate un like o un commento, e niente, ci vediamo al prossimo video, voglio portarvi nuovi contenuti, e ci aggiorniamo, stato bello! Ciao!